A destra, la Moki di Levaneo. Fatevi un applauso. Alla mia sinistra avete già sentito agguerriti il Don Milani Castelfranco. Sono domande che a questo punto hanno un peso relativamente basso. Che ci racconti di te? Niente, sono un essere umano. Ci fa piacere che tu lo dica. Io sono a usare Alessia, la migliore amica. Perché? Perché è qui dietro. Nessuna delle tre. Poi si guarda, mi sembra che sia visto. Si sei? Mi ci hanno mandato, sono qua. 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 Qua.